E un altro articolo per chi ama allenarsi in palestra, il PTR Dope Kit di 5.11. È un kit da bagno, è un beauty. Ebbene, ammettiamolo, ormai quando facciamo una doccia, anche i più duri e puri di noi hanno tutta una collezione di prodotti e accessori che servono per acquisire quell'aria di duro e puro, ma curato, necessaria poi per presentarsi al dopo palestra, agli aperitivi e ai cinema e con gli amici e con le amiche. Bene, in quel caso vi servirà una borsa per la vostra attrezzatura da bagno, una borsa con un gancio. Ragazzi, il gancio nei beauty è la cosa più preziosa che c'è. Ci deve essere, non solo, deve anche essere girevole così. Perché? Perché vi è mai capitato di arrivare in un posto e non trovare modo di agganciare la borsa in questo modo? Quindi dovete girarla? Ecco, può succedere. E allora devo essere in grado di girarla e questo me lo permette. Bene, il gancetto quando non serve deve sparire. Giriamo la nostra borsetta e lo agganciamo nella clip che ha qui all'interno. Beh, abbiamo un taschino sul vetro per sistemarci qualsiasi cosa e una maniglia per afferrarlo e portarlo in giro dove possiamo anche applicare delle patch piccoline o una patch ID come quella che vi lascio qui in descrizione. Torniamo alla parte frontale che mi era un attimo distratto. Logo bianco di 511. Sul fondo è gommata e questo ragazzi è comodissimo. Permette alla borsa di non bagnarsi, di non bagnare il contenuto. Ha una borsa di questo tipo in nylon tosta e ovviamente anche resistente all'acqua. Ma ad essere proprio impermeabile stagno è il fondo. Non può essere tutta gommata, altrimenti fa la muffa quello che ci mettiamo dentro. Va bene, andiamo a noi. Come si apre? Doppia zip tostissima YKK con dei cordini morbidi che della nuova linea di allenamento di 511 sono bellissimi. L'apertura come vedete è integrale ma non si scappotta. Non si apre completamente. Se io l'appendo non deve farmi cadere il contenuto. E qui il contenuto non cade. L'interno è bianco e questo ci permette di ritrovare tutto. Abbiamo uno, due, tre, quattro grossi scompartimenti e poi scompartimenti più piccoli dove sistemare il deodorante, la cremina piccolina. Se avete altri piccoli oggetti potete usare gli elastici. Ed ecco una delle cose belle quando un marchio come 511 ti fa un oggetto che vai ad utilizzare nella vita di tutti i giorni come uno di questi. Applica tutte quelle conoscenze, tutte quelle soluzioni tattiche, gli elastici a cui siamo abituati nell'ambito ecotattico militare. E sono fantastiche. Utilissima anche il taschino interno con la zip per sistemare gli oggettini piccolini che magari rischiamo di perdere. E chiaramente anche il PTR Dopp Kit si va ad aggiungere alla nostra collezione da fitness di 511. Backpacko ha tutto un reparto dedicato al fitness e all'allenamento. Si chiama FitPacko dove trovate anche informazioni su insomma come migliorare, come farsi aiutare dai coach ad ottenere risultati sempre migliori. E anzi vi consiglio tantissimo di seguire. Ve lo lascio qui in descrizione il profilo Instagram del coach Mario Rabboni di FitPacko dove si allena continuamente con i prodotti tattici, con i prodotti di 511. Ecco con lui potete prendere spunto e imparare davvero come si può migliorare la propria forma fisica con esercizi semplici ma con la giusta attrezzatura.